però riuscire ad agganciare un treno giusto ci fosse per fare il tempo di un possibile ripescaggio lei è una che Maite Martinez viene fuori dalla distanza e sa domare tante situazioni tattiche Maite Martinez quest'anno però ancora non si è espressa praticamente io dico che l'inglese, la Jennings è addirittura una delle favorite mi piace molto nelle gare non sul meeting ma nelle gare di campionato è una che ha un agonismo e una capacità di uscire importanti e anche di interpretare sì, la Reina può provare a fare il suo personale è partita bene, è decisa e sta puntando, evidentemente sta bene, sta facendo una gara da protagonista quest'anno 2-0-1-0-9 a Roma il Golden Gall è il quinto tempo tra le asleti che sono partite lei che arriva dai 400 metri, compito difficile, tempi di recupero 2-0-1-19-33 Hoffman davanti Hoffman davanti tra poco Rai 2 andrà sul telegiornale e allora per la semifinale di Elisa Kuzma vai in Sport 1 buon ritmo con davanti anche la Russa Stetlana Kliuca, 58 e 10, grande ritmo Hoffman, Krebson viene su anche l'Ucraina, Krebson nel mezzo Daniela Reina Reina deve crederci adesso, dai 4 ai 6 è il momento più difficile deve crederci adesso e rimanere attaccata un secondo e 41 più veloce rispetto alla prima e 400 Kliuca, Hoffman, Meadows che giustamente viene fuori adesso Reina che scivola indietro Maite Martinez è venuta su e quindi in discreta condizione quantomeno può giocarsela molto forte il passaggio ai 400 per Reina che adesso paga Kliuca, Meadows retrovie qui Kliuca, Meadows davanti prova comunque a giocarsela ma non ha più gambe Kliuca, Meadows e poi Martinez, Krebson Klozova, Klozova tutte sotto i due minuti, grandissima gara con Meadows davanti alla russa terza Maite Martinez finisce estremata con 2-0-2 basso con una distribuzione non ultimale ovviamente ma bisognava giocarsela questa possibilità per Daniela Reina allora linea al